Nel giro di due anni il depuratore di Pescara quadruplicherà il volume delle acque in grado di trattare. Lo assicura l'ACA che ha avviato i lavori sulla struttura dove giungono le fogne di Pescara, San Giovanni Tetino e Spoltore. Gli interventi affidati ad un'associazione di imprese abruzzesi e non riguarderanno il potenziamento del depuratore già esistente ma anche la costruzione di una nuova vasca di pretrattamento delle acque che dovrebbe essere pronta nel giro di un anno. Poi nell'area ridosso dell'aeroporto verranno ammucchiati da una parte coperti con il capping, i fanghi biologici di proprietà del comune di Pescara, lì abbandonati da decenni sulla scia di vecchie leggi poco rispettose dell'ambiente. Nello spazio ricavato verrà realizzata una nuova vasca biologica da 17 mila metri cubi, fine lavori nel 2024. Il depuratore attualmente serve un bacino di 185 mila abitanti ed è in grado di trattare 75 mila metri cubi di acqua al giorno tra acque civili e industriali. Il progetto, che risale al 2017, ha l'obiettivo di ridurre l'inquinamento del fiume e del mare causato soprattutto dalle piogge, piogge amate e odiate da ACA che da un lato realimentano le sorgenti attenuando la carenza idrica, dall'altro fanno straripare le reti fognarie causando inquinamento. Si tratta di reti miste quindi noi siamo assolutamente in grado di trattare i reflui civili in condizioni ordinarie però nel momento in cui ci sono degli eventi di pioggia il depuratore si trova sotto sforzo cioè con un picco di acqua in ingresso che deve essere accantonata e poi laminata e trattata nel depuratore. Noi abbiamo avuto delle infrazioni europee sul settore fognario quindi ACA si è impegnata moltissimo sin dal 2016 sul perfezionamento della gestione dei depuratori, sugli interventi di manutenzione fognaria, sul potenziamento di questo progetto. L'opera costerà 10 milioni di euro, a questi si aggiunge un milione speso dalla regione Abruzzo per risolvere i contenziosi con le imprese così da far partire i lavori con l'obiettivo di conservare la bandiera blu. Un depuratore che non funziona, equivale a un mare non pienamente balneabile e invece siamo riusciti finalmente a sbloccare questa grande infrastruttura.